Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi torno a parlare dell'Ippovia del Tenna e in particolar modo di un contest dedicato a bambini e ragazzi che vogliono iniziare l'avviamento all'arte quest. Al contest potranno partecipare tutti i bambini e i ragazzi di età compresa fra i 3 e i 14 anni. A tutti verranno regalate ben due lezioni di avviamento all'equitazione presso una delle nostre strutture convenzionate. Ma veniamo nello specifico. In cosa consiste esattamente questo contest? Per i bambini della scuola dell'infanzia suggeriamo un coloratissimo disegno dedicato ai cavalli o all'equitazione, mentre per i più grandi potremmo proporre un tema libero sempre su un cavallo famoso, come ad esempio Bucefalo dell'immenso Alessandro... Nella descrizione troverete le mail a cui poter inviare i vostri lavori e alcuni dati minimi per potervi ricontattare. Nel frattempo vi voglio leggere l'inizio di questo meraviglioso libro che è l'arte della cavalleria in questa edizione del cerchio di Rimini, di Senofonte, un autore greco. Avendo praticato per molto tempo l'equitazione, riteniamo di avere acquisito esperienza nell'arte equestre. Desideriamo spiegare agli amici più giovani quello che pensiamo debba essere il modo più corretto per trattare con i cavalli. Grazie e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. A presto! Grazie a tutti!